Ciao, benvenuti da Violet. Oggi vi faremo vedere un aspetto speciale. Ecco voi, Barbara! Ciao gente, sono Barbara, la migliore amica di Angelica. Dì a tu Angelica, che cosa devi dire? Oggi Barbara vi racconterà la sua vita, come è nata, come finisce, come è morta. Come è morta? Io non sono morta. 12.15 anni, scherzo fra l'anno e lontani. Oggi vi raccontare la sua storia. E oggi, ogni domenica, ci sarà dalle 17.30 e quella senza ospite alle 22.30. Dalle 17.30 alle 19.30, invece, quelle delle 22.30, dalle 22.30 alle 21.30. Sì, 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 non vi perdete la seconda puntata di Agnole. Come però, l'amici? Alle 17.30 ci sarà sempre un ospite. E poi... Allora, incominciamo. Allora... Allora... Berbera, come è un'altra tua storia? Da quando ero piccola, no? No, che sarà il fatto che avevi 5, 6, 7 anni. Quando è cominciata la tua storia proprio da... Allora, quando avevo 4 anni andavo sempre all'asilo, all'asilo nido con i miei compagni. Poi, a 5 anni, sono andata alla scuola materna, non c'è tanti di tutti gli anni. E lei dice... Ma poi, quest'anno, hai 7 anni, e sei diventata una signorina. Cosa stai facendo nella tua vita? Beh, sto giocando la mamma, sto giocando la mamma, sto giocando la mamma a fare i servizi, al negozio, a fare i conti, a scuola. Ma come... Come... Come è nata? Come è... Che è... Fatta che tu sei... Quando è stato l'ultimo giorno che sei andata nel verso di tua madre? Quando avevo 0 anni, la mamma mi ha portata e... Quando avevi... 2 anni. 2 anni. Ma come ti sei trovata attiva già nel negozio? Bene. Qualche lamento... E invece, oggi, che c'è il bordo russa, come ti sei sentita? Cioè, c'era qualcuno, c'era la tua famiglia? Non ho capito. Dimmi se c'era nel bordo russa, tu sei andato nel negozio con qualcuno. Sì, stavo con me e la mia mamma. E poi... Qualcuno della tua famiglia? Poi con Marco e il bordo russa. Tu, 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 tu e il tuo fratello e il tuo fratello. A parte di giocatore. Allora, mia mamma è... Allora, io e mia mamma. Sì. Lavora. E tu e il tuo fratello e il tuo padre? Questa volta è fatto. Io sono stata al negozio con la mamma, poi... E il tuo fratello e il tuo fratello è uscito con il suo amico Francesco, di Biblia. Ma poi mi siete fatte con gli amici? No. Tu, con l'amica... Allora, come vai il tuo rapporto con il tuo fratello? Diciamo che va un po' bene. Invece con il tuo... Bene. Con tutto per il tuo fratello. Allora, questo va sempre bene con tutti. A parte con un guaccio. Sì, guardi più. Sì, guardi più. Sì, guardi più. Sì, tipo... Dove hai detto di sede? E' tra l'altro. E' oggi per i buidini. Ma non ti metti a cavallettata? Sì. Ma... Ti piace questo programma? Eh? Da primo giorno ti è piaciuto questo programma? Sì. O una amica tua? Sì. Oggi abbiamo incominciato tardi, però c'è un... Vado a bere l'acqua. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. E un saluto. Ciao. Arrivederci. Non perdetevi la prossima puntata. Mi raccomando. No perdetevi la prossima puntata. Sì. Grazie.